La misura di stagione siamo alla fine di ottobre, abbiamo quello che è il fungo di questo periodo, il Criteocibe nebularis. Eccolo qua. È un bellissimo fungo data la stagione. Eccolo qua, belli, ce ne sono 3-4, magnifici. È un fungo che lo si può anche mangiare pur che sia scottato abbondantemente, poi lavato in acqua non di cottura e poi lo si può adoperare.